Turchia, all'apparenza un uomo perfettamente normale, sposato, padre di due figlie femmine e un maschio. Quando il lato oscuro di Ali Kemal Tufan prende il sopravvento, si trasforma in un pericoloso predatore. Nel 1996 viene arrestato e tenuto in carcere per sette mesi con l'accusa di aver stuprato la moglie del vicino, ma viene rilasciato perché le prove non sono ritenute sufficienti. Commette il primo omicidio il 24 settembre 2001. Rapisce una bambina di 11 anni facendola salire sul suo furgoncino. La stupra e la strangola con una corda. Poi seppellisce il cadavere sotto un cumulo di spazzatura. Per 5 anni nessuno sospetta di lui. Il 19 giugno 2006 compie il suo secondo omicidio. Stupra ed uccide una bambina di 9 anni. Viene arrestato grazie alla denuncia del suo stesso figlio, ormai stanco di essere vittima delle sue violenze. Tre giorni dopo l'arresto, incapace di reggere il peso di un processo e l'odio dell'opinione pubblica si impicca nella sua cella.